Carlo Signorelli, docente di igiene del San Raffaele di Milano, la situazione del Covid preoccupa anche se nel territorio lecchese zero casi nella giornata di ieri e anche nei giorni precedenti. Bisogna sempre guardare i dati su più giorni. I dati più giorni indicano che in alcune province, non solo della Lombardia, c'è un leggero aumento del numero di infetti ritrovati. Questo è legato alla circolazione del virus nei giovani fondamentalmente e soprattutto in persone che sono state all'estero dove evidentemente ci sono più infetti e ci sono meno misure di protezione fatte rispettare e questo è un po' acceso il dibattito sulle discoteche piuttosto che sui locali pubblici. Tutto ciò è da tenere in grande attenzione perché noi non sappiamo se nelle settimane successive, se anziché infettarsi i giovani si ricominciano ad infettare gli anziani, se questo non possa dare sintomatologie più gravi, cosa che invece adesso non succede. E' vero che il numero di ricoveri è rimasto molto basso e costante. Quindi dobbiamo in queste settimane sorvegliare la situazione, fare tutte le azioni di sanità pubblica dai test al cosiddetto contact tracing per poter ridurre il più possibile questa, tra virgolette, seconda ondata che in parte in Francia, in Belgio, in Spagna si è già manifestata e che da noi è solo all'inizio e potrebbe anche essere stoppata qui. Le goccioline con il virus, con il covid restano nell'aria? Uno studio lo ha di fatto documentato e certificato. Le goccioline nell'aria possono rimanere del tempo e naturalmente le distanze possono aiutare, ma non sono sufficienti. Tanto è vero che noi raccomandiamo, soprattutto in certi ambienti, quelli ospedaliere ad esempio dove ci sono gli infetti, che il personale usi sempre la mascherina chirurgica. E naturalmente se tutti usano la mascherina chirurgica, questo problema delle goccioline è un problema fortemente ridotto. Ecco perché noi continuiamo a dire igiene personale, distanza, ma anche mascherine come azione di prevenzione, che proprio può evitare questo tipo di rischio che lo studio ha confermato esserci. Grazie. Grazie. Grazie.